Maria Lucia Revisore Revisore Io sono microbiologo, anche io parlerò di agricoltura, che è cominciata 10.000 anni fa, quando degli uomini hanno piantato sulle sponde del nilo l'orzo e il grano, e sono nate, velocemente, delle piantine, a quei tempi pensavano a una magia, una magia incredibile. Poi, allo stesso momento, gli uomini hanno cominciato a levare gli animali, e poi se mi muovo velocemente, arrivare fino al 1700, inizio 1800, la seconda grande rivoluzione dell'agricoltura, gli uomini cominciavano a fare rotazioni, a fare varie culture, cominciavano a concimare il terreno, e usare i primi macchinari. Infatti si è anche pensato che questo ha proprio dato lo slancio alla prima rivoluzione industriale. E velocemente arriviamo al giorno d'oggi, l'agricoltura intensiva. siamo al top, ingegneria genetica, abbiamo sentito parlare fertilizzanti, pesticidi, macchinari eccellenti, quindi rese incredibili. Ok? Siamo qui adesso. Però dobbiamo andare oltre. Come abbiamo già sentito, nel 2050, questo grafico qua della FAO deve essere aggiornato, saremo quasi 10 miliardi. Dobbiamo produrre il 60% più cibo. Una chimera incredibile, che io credo non sarà risolta da un'invenzione, una scoperta tipo Eureka. Una persona seduta in ufficio fa un esperimento, ecco, adesso ho risolto. No, sarà diversi tasselli che insieme, magari in modo sinergico, ci porteranno a questo grande traguardo. uno di questi, qui la mia chimera, uno di questi, secondo me, è la microbiologia. Io sono un microbiologo. Che cos'è la microbiologia? Tutto ciò che noi non vediamo con l'occhio nudo è microbiologico. E adesso forse vi sorprenderò. Il 99% della biodiversità nel pianeta è microbiologico. Quello che noi vediamo ogni giorno rappresenta soltanto l'1%. E la microbiologia è fondamentale per la salute di tutti noi, per la salute della Terra, tutti i cicli degli elementi. Di che cosa parliamo? Di batteri, di funghi, protozoa, arca, piccoli vermetti, virus. Noi microbiologi, qualche volta siamo così, la cenerentola delle scienze, perché sono organismi semplici. Però abbiamo avuto diverse rivoluzioni nel nostro mondo. E una di queste, che la stiamo vivendo in questo momento, è la genomica. Noi possiamo sequenziare il DNA velocemente e a costi bassissimi. Faccio un piccolo esempio. Io faccio ricerca dal 1990. Il primo genoma, i batteri hanno un cromosoma. Noi ne abbiamo 23 paia. Un cromosoma anche piccolo. Il primo batterio è stato sequenziato nel 1995-96. il bacillo subtilis. Ok? Ed è stato sequenziato con un progetto europeo che costato più di un miliardo delle vecchie lire. Dove 40 laboratori in giro per l'Europa hanno ricevuto un pezzettino del genoma e l'hanno sequenziato manualmente e poi è stato assemblato. due o tre anni di lavoro. L'anno scorso ho avuto una studentessa di tesi magistrale nel mio laboratorio e parte del suo progetto, parte dico, era sequenziare 20 genomi di un'altra specie di batterio che è il 50% più grande del bacillo subtilis. 1500 euro qualche settimana. 25 anni. Quindi questa capacità di sequenziare il DNA in modo così potente ci permette adesso noi microbiologi di fare una cosa che non potevamo per noi era fantascienza, per me 15-20 anni fa, di andare nelle zone della Terra prendere tutto il DNA, purificare tutto il DNA in quella zona lì e sequenziare tutto. Quindi facciamo una fotografia di tutta la microbiologia presente in un ambiente. Tutti i componenti microbiologici di quell'ambiente si chiama microbioma. Una parola che non esisteva qualche anno fa, è stata coniata recentemente, questo succede spesso nella scienza, nuove tecniche, nuove scoperte, nuove innovazioni. Il microbioma. Ce ne sono tanti, ci sono tanti scienziati che studiamo questo microbioma e ci siamo accorti quanto complesso è. La maggior parte dei microrganismi che abbiamo in giro nel pianeta non li possiamo crescere in laboratorio. È per questo che questa tecnologia ci permette di queste fotografie e ci dicono delle cose che prima erano veramente impossibili. E questo è anche un punto importante. Purtroppo, la grande maggioranza dei microrganismi non li possiamo portare in laboratorio e crescerli. Tanti scienziati in giro per il mondo studiano diversi microbiomi, microbioma del suolo, della pianta, dell'animale, perché la microbiologia è dappertutto. Quello sicuramente più studiato è il microbioma dell'uomo. Noi uomini abbiamo un trilione di cellule nostre umane, abbiamo 10 trilioni di microrganismi che vivono insieme a noi ogni giorno. Non esiste uomo sulla terra che non ha questo. Se non avessimo questi microrganismi moriamo in pochi giorni. Infatti quando vi vedo vi penso come dei microrganismi, non come degli uomini. Il punto focale è l'intestino. Ci sono due chilogrammi di microrganismi nell'intestino che è una comunità molto complessa, che è considerato un organo esterno. Fa delle cose vitali per noi, ci dà le vitamine, ci aiuta a digerire il cibo, ci induce il sistema immunitario, ci crea una barriera contro i patogeni che vogliono uccidere le nostre cellule per procurarsi cibo. Il microbioma in tutti questi ambienti è così importante che per celebrarlo qualche anno fa è stato istituito il World Microbiome Day, il 27 giugno, proprio per ricordarci l'importanza di preservare questi microbioma e di celebrare la sua importanza. Io mi interesso del microbioma delle piante, suolo-piante, e questa foto vi fa vedere numeri importanti. Un grammo di suolo contiene 100 milioni di microrganismi. in quel cucchiaino che vedete lì ci sono più microrganismi che uomini sulla terra. Il suolo è vivo. Dal suolo nasce tutto, nasce la catena alimentare. Se noi abbiamo un suolo, se noi prendiamo un suolo e lo portiamo a temperature altissime, uccidiamo tutta la microbiologia, le piante crescono malissimo, i cicli non avvengono più. Quindi quando vedete il suolo, è la vita. Ok? E da questa microbiologia, quando noi piantiamo il nostro cibo, le nostre piante che poi noi mangiamo, la pianta ha questo, che poi fra l'altro il suolo è il microbioma ad oggi, più biodiverso che c'è. È il microbioma del suolo. Quindi la pianta si trova questa fantastica biodiversità microbiologica. Ok? E la va a reclutare. Ci sono delle comunicazioni che stiamo studiando, affascinanti, di capire come la pianta, la pianta recluta, vuole crearsi un microbioma forte, utile, no, utile sicuro, vitale per lui, quindi molto forte. E la terra più vicino alla radice, non diamo oltre 2 o 3 millimetri, si chiama risosfera. E anche la pianta, come l'uomo ha diversi microbiomi delle foglie, ma il microbioma di quella zona è il più importante, è l'intestino della pianta, è il perfetto parallelismo. Quindi, infatti, la biodiversità nella risosfera è 10 volte più alta della biodiversità microbiologica del suolo. Figuriamoci. Quindi questo reclutamento, questa creazione del microbioma nelle piante, è fondamentale. Ok? Quindi programmi di recluta, comunicazione, alimentare il microbioma, le piante essudano dalle loro radici il 15% del carbonio, di quello che producono con la fotosintesi. E non lo fanno perché la pianta è costruita male, e lo fanno proprio per alimentare il proprio microbioma. E come nell'intestino, il microbioma è importante per la crescita. Ci sono microrganismi che producono ormoni delle piante, che loro non servono a niente, lo fanno per dare qualcosa alla pianta, in cambio a questa nicchia dove loro possono vivere bene. Aiutano la pianta a acquisire nutrienti, fosfato, ferro, nutrienti che la pianta non ha accesso. Inducono un sistema immunitario. Abbiamo sentito parlare di strassi ambientali. In futuro dovremo crescere il nostro cibo in terre marginali, troppo calde, molto salate, dove manca acqua. E questo microbioma può aiutare le piante a crescere in questi ambienti. E anche come nel nostro intestino, ci sono dei patogeni che vogliono attaccare le piante. E tanti, non tutti, ma tanti, attaccano le radici, entrano dalle radici. Quindi è questo che io sto studiando, è una frontiera che noi vogliamo capire. Questa è una foto dei studi del mio laboratorio. Quello che noi facciamo, andiamo in queste zone delle piante, sequenziamo tutto e tramite dei software creiamo dei network. Questo è un network di un microbioma di una risosfera del riso. E ogni puntino rappresenta un microorganismo. E la grandezza del puntino rappresenta l'abbondanza quanto ce n'è di quel microorganismo. E la posizione di quel microorganismo è molto importante perché se nel centro, in un ponte nodale, e noi la togliamo, vi potete immaginare che il network comincia ad essere instabile, debole. Mentre magari quelli più periferiali forse hanno meno importanza. E questo microbioma si è evoluto per milioni di anni insieme alle piante. Comunica fra loro. È un organismo multicellulare che lavora in concerto, in sincronia. Quindi questo è quello che io faccio. E lo faccio in tutto il mondo. Io lavoro in un centro internazionale che guardiamo molto in paesi in via di sviluppo. In certi paesi in via di sviluppo l'agricoltura rappresenta più del 30% del GDP. E quello che noi facciamo, andiamo là fuori. Mi interesso di riso, più che di riso, ma anche di olivo, di vite. E andiamo in zone geografiche dove raccogliamo risosfere di piante malate o stressate e della stessa specie di pianta, molto vicino geograficamente, anche magari a 40 metri, stanno bene, sono sane, sono forti. E quello che noi pensiamo è che queste due piante hanno una recluta del loro microbioma diversa. E il microbioma della pianta sana, resistente ai petogeni, resistente agli stress, è forte. È quello migliore. E se noi li paragoniamo, la pianta malata e stentante verso le piante forti e facciamo dei paragoni, possiamo magari, creiamo questi network e possiamo capire quali microrganismi sono fondamentali per il microbioma di quella del riso, di quella specie, in quella zona. E dopo possiamo isolare questi microrganismi, cresce in laboratorio, non li modifichiamo geneticamente, e li diamo all'agricoltore. Facciamo dei prodotti, dei probiotici, in modo che il seme che l'agricoltore pianta può essere già, parte già avvantaggiato, parte già con i keystone elements, come noi, i keystone microorganism, i microorganismi principali, nodali del suo microbioma. Questo mondo, questa microbiologia ha, questa microbiologia si sta dando molto interesse, vi dico che io collaboro anche con delle aziende, nella ricerca, sapete che finanziamenti della ricerca noi soffriamo molto, specialmente chi fa ricerca nei paesi sviluppati come il nostro, anche in Nord America, in agroalimentare, i finanziamenti sono pochi, perché la maggior parte, più del 90%, va nella ricerca biomedica. A noi ci piace finanziare ricerca che abbiamo un ritorno diretto. Ok? Ed è giusto. Malattie genetiche, malattie cardiovascolari, il cancro, ed è giusto. però forse stiamo trascurando la ricerca nelle materie agroalimentari. Infatti, un recente studio negli Stati Uniti ha dimostrato che i dottorati di ricerca, chi vuole fare ricerca bisogna cominciare con un dottorato di ricerca, fare il dottorato di ricerca. I dottorati di ricerca nel settore biomedico negli ultimi 15 anni hanno avuto un aumento quasi esponenziale, mentre i dottorati di ricerca nelle materie agroalimentari, nelle ricerche sulle piante agroalimentari. Sono rimasti flat piatti. Per tornare a quello che dicevo prima, tante start-up sono molto interessate a usare questa informazione nel microbioma per fare dei prodotti per l'agricoltura. Come vi faccio vedere qui. Dare dei semi all'agricoltore già ricoperti di questi Kiston microorganism, in questi microorganismi nodali. Metterli nel suolo, rivitalizzare il suolo, o anche darli un po' più avanti. Quindi l'idea è questa. E io con queste start-up stiamo cercando di andare in questa direzione qua, per avere un'agricoltura molto più sostenibile. E per tornare alla chimera, e concludere, questo secondo me, questo, come dicevo, non vi sto dicendo assolutamente che studiamo il microbioma, capiamo il microbioma, facciamo dei prodotti eccezionali e portiamo al 60%. No, è un tassello, secondo me è un tassello molto importante, che insieme ad altri tasselli dobbiamo lavorare per arrivare a questo 60%. Perché se no, può darsi che la mancanza di... Già oggi, sappiamo che ci sono tanta gente che soffre la fame, ma magari per motivi anche diversi. Ma questo 60%, il microbioma è sicuramente, secondo me, un tassello fondamentale. Grazie tanto.